Ciao a tutti, sono John Caim e studio alla Magistrale di Scienze Storiche dell'Università di Torino. Benvenuti in questo canale YouTube Giasun degli Storia. Oggi inizieremo a parlare di questo tema della democrazia diretta, in particolare andremo ad analizzare il modello atenese. In questo video parleremo del modello atenese di democrazia diretta. Subito all'inizio faremo delle premesse lessicali, che cos'era la democrazia, come è nata questa parola, visto che è stata coniata dai greci. E faremo anche delle premesse a chi era rivolta questa democrazia, quindi sulla cittadinanza. In seguito analizzeremo la storia atenese, useremo, come è stato analizzato, prenderemo in prestito il pensiero di un noto storico italiano, do ben comosti. E quindi divideremo questo continuo laboratorio politico che è stata la democrazia atenese in tre parti. La prima è la democrazia di Clistene, successivamente la democrazia radicale e infine la democrazia del IV secolo. Ovviamente per fare questo lungo percorso bisogna dire che abbiamo pochissime fonti antiche, infatti ci è concesso dir poco, ci concentreremo sul quinto ma soprattutto sul quarto. Come fonti, come saggi che ho utilizzato, consultato per costruire questo video. Ovviamente c'è il celebre saggio di Domenico Musti, Democratia. Inoltre il celebre saggio di Luciano Canforo, Il mondo di Atene. In particolare per il quarto secolo, che è il secolo dove abbiamo più fonti di tutto, ho utilizzato il versaggio dello storico Hansen, la democrazia del quarto secolo. Inoltre ci sono un sacco di saggi che uno può iniziare, pensiamo ai classici di Philly, di Ober, Massive and Elite. Io ho iniziato da questo e vi invito a fare altro e perché no? Vi invito anche in commenti a scrivere i vostri pensieri, perché no anche le vostre critiche. Ora che abbiamo carito questi due termini, Democratia e Demagogos, ebbene, come dobbiamo immaginarci la democrazia antica? Come dobbiamo immaginarci Atene antica? Ebbene, secondo lo storico Hansen, l'Atene era una società molto più complessa di quelle rispetto face to face, che sono tipiche dell'antropologia. In particolare, secondo lo storico Ober, i Demi, che erano il nucleo primario della divisione amministrativa, dell'Attica, erano in luogo di una partecipazione primaria e soltanto la classe dirigente, l'aristocrazia, un'elite aristocratica, governava di fatto. La democrazia diretta veniva nei Demi, nei Demi locali dell'Attica e poi di fatto l'amministrazione complessiva era fatta da un'elite. In particolare, lo storico Hansen sottolinea come, appunto, ovviamente, come tutti noi sappiamo, la cittadinanza era rivolta esclusivamente ai maschi adulti in età militare, quindi erano escluse le donne, i meteci, cioè coloro, gli stranieri che vivevano l'Attica e gli schiavi. Soltanto i cittadini pieni diritto erano considerati i maschi adulti, ma attenzione, Hansen sottolinea, a differenza, qui critica i pensatori, la storia marxista, sottolinea come Atene fosse una società di ordine e non una società di classi. La tripartizione, la diversità tra la società, tra la cittadinanza era data dallo status. Infatti non possiamo neanche parlare di una casta, infatti i cittadini, essere cittadini voleva dire godere dei privilegi politici e dei privilegi di possedere la terra. Questo voleva dire essere cittadini, questo era il privilegio di una cittadinanza. Infatti si trovavano benissimo, i uomini più ricchi che risiedevano nell'Attica, che risiedevano in Atene, erano i meteci, cioè quegli stranieri che non potendo possedere la terra perché non erano cittadini, si davano alle attività commerciali e artigianali. Atene ovviamente nel V secolo è una potenza a un impero marittimo, ovviamente gli stranieri conveniva andare a vivere in Attica. Quindi la ricchezza non era esclusiva dei cittadini atenesi e tra gli stessi cittadini atenesi era presente una forte disuguaglianza. Infatti, ben che tutti avessero lo stesso diritto, non tutti i cittadini potevano, potevano, avevano, godevano della terra. C'erano diversi, una grande quantità di cittadini atenesi poveri, quelli appunto del Demos. Secondo Hansen, la grande divisione che esisteva ad Atene era rivolta all'età. Infatti, tra 18 e 20 anni un ragazzo diventava un cittadino, però poteva votare, poteva partecipare all'Assemblea. Ma come accedere ai grandi carichi, come la strategia, che è la carica militare per eccellenza, politica e militare, o entrare nella Bule, il Consiglio del Cinquecento, nei tribunali, eccetera, il godimento totale dei diritti politici avveniva nei trent'anni. Infatti Hans impotizza che nel IV secolo soltanto un terzo dei cittadini fosse sotto ai trent'anni. Quindi di fatto chi governava erano i due terzi di questa cittadinanza, ovviamente di maschi adulti. Quindi era l'età un fattore determinante che divideva la cittadinanza. Quanto era, se vogliamo dare un numero preciso, di questi cittadini? L'unico dato che abbiamo, dobbiamo rifarci al censimento del tiranno Demetrio Falareo, e siamo nel 317 avanti Cristo, ed ha una cifra di trentamila cittadini maschi adulti. Hans impotizza che nell'età di Periche, quando riformò la legge sulla cittadinanza, lo stesso Periche cambiò una legge, sostanzialmente potevano essere conosciuti i cittadini atenesi, soltanto coloro che avevano entrambi i genitori atenesi. Ebbene, prima di quella data ipotizza che i cittadini fossero maschi adulti, più addirittura 60.000. Ebbene, invece ovviamente alla fine del IV secolo tutte le varie quelle che ci sono state si è fortemente dimezzata. Atene non era più quell'egemonia che era al tempo di Periche. E quindi, per tirare ancora su una cifra, si ipotizza, gli storici ipotizzano verosimilmente che su una cittadinanza che poteva oscillare tra 30.000, 40.000, 45.000, 60.000 addirittura a tempo di Periche, ebbene, tutti gli abitanti effettivi, cioè le donne, i maschi adulti inferiori ai 18 anni, i meteci, fossero tra i 120.000 e 100.000 abitanti in tutta l'attica. Quindi qui vedete appunto la grande critica che si fa. Sì, una democrazia, ma qui vediamo appunto forse una oliverchia molto allargata. Godere la cittadinanza era un privilegio nelle mani di pochi. Non ho parlato della schiavitù, perché come ho detto precedentemente, in mio video precedente sulla schiavitù, nessuno sa, neanche gli antichi sapevano esattamente quant'erano nei numeri di questa entità, di questo fenomeno. Le fonti dicono che comunque ad Atene anche il più poveraccio poteva possedere uno schiavo. Quindi di questi 30.000, ipotizziamo, maschi adulti alla fine del IV secolo, ognuno di esse aveva uno schiavo. Poi ovviamente i più ricchi avevano più quantità di schiavi. Per concludere, siamo nel 317 a.C. su 30.000 cittadini, maschi adulti che governavano la propria città, la popolazione poteva essere sui 120.000 e 100.000 abitanti, esclusivamente gli schiavi. Gli argivi hanno deciso alla unanimità. Stacco. Tutte le destre del popolo fono elevate e fermette lettere quando fu presentata la proposta. Stacco. Ed il popolo che ascoltava, senza aspettare la voce dell'Arlando, sollevò la mano e decretò che così fosse. Il popolo dei Pelasgi ascoltò i ragionamenti persuasivi di chi sapeva parlare all'Assemblea e Zeus mandò in esecuzione la decisione definitiva. Ovviamente questo è Eschilo, queste sono le supplici ed è il momento nel quale l'Assemblea di Argo vota per decretare che cosa fare ovviamente delle Danaidi. Questo è forse veramente il momento più emozionante che descrive una votazione ovviamente ideale, come avete sentito, tutta l'Assemblea si alza e vota in modo unanime sul giusto da fare. Non è un caso che Zeus manda appunto la decisione, cioè Zeus la presenta nel mondo antico la giustizia. Quindi questo modo Eschilo nella metà del V secolo rappresentava in un modo straordinario la democrazia diretta, probabilmente questo dal punto di vista ideale e non è il caso siamo alla metà del V secolo, quando tutto quanto andava bene. Bene, con queste parole vorrei iniziare a parlarvi della democrazia di Clissene, quindi della prima democrazia. Come prima tappa della storia della democrazia atenese, seguendo lo studio di Domenico Musti, ebbene la prima tappa è appunto la democrazia di Clissene, ma ovviamente il processo democratico nel mondo ellenico non è nato con Clissene, già c'erano delle premesse e quindi qui dobbiamo velocemente tornare indietro, dobbiamo arrivare al VII secolo avanti Cristo, come ha evidenziato Vernà nel suo celebre saggio Le origini del pensiero greco. Ebbene, già nel VII secolo avanti Cristo siamo in piena età arcaica, quando le poleis si formano e sono queste poleis governate da aristocratici, dai cavalieri. Ebbene, già in queste assemblee dove appunto la classe dirigente è un'oligarchia, però c'è un pensiero democratico, cioè tra di loro, ovviamente sono in pochi, sono una ristretta a cerchi, però si riconoscono uguali, non sono più governate dai basileus come nel tempo dei micenei. Ebbene, siamo al VII secolo, poi verso la metà del VII secolo si arriva con la riforma oplitica e quindi vediamo che le classi di censo, i medi e i piccoli proprietari che si armano a loro volta e sono importanti per appunto la difesa della città. E' qui che emerge la figura del cittadino soldato dell'oplite e quindi a loro volta vogliono entrare dentro i fatti, vogliono entrare nella gestione appunto della città. Quindi arriviamo al VI secolo, all'inizio con le riforme di Solone, ovviamente parliamo adesso della storia di Atene, questa continua tensione fra la grande aristocrazia con i proprietari terrieri, i medi e piccoli proprietari, c'è tutto discorso a fare dei debiti, no, la riforma di Solone che apre la strada, lattica da una veste con le quattro classi di censo. Poi ovviamente arriva la tirannia di Piesistrato, che è molto importante, come lo ha sottolineato lo stesso Mursi e non solo, la tirannia di Piesistrato è riuscita, facendo affidamento sul Demos come base del proprio consenso, andando contro, ovviamente Piesistrato era un aristocratico e è andato contro altri della sua classe dirigente, della sua classe sociale, bene, andando contro ad altri aristocratici e quindi facendo politiche che guardavano con favore al Demos e comunque se l'è portato dalla sua, se vogliamo dirlo in maniera molto brutale. Ebbene, la tirannia ha aperto la strada alla democrazia e non possiamo spiegarci solo in altro modo che appunto dopo l'esperienza dei Piesistrati, di questa tirannia, arriviamo finalmente a Clistene e vediamo che un Demos, possiamo vedere, possiamo intuire, un Demos alquanto maturo, un quanto perlomeno un coeso, molto più di un secolo precedente. Ma adesso arriviamo al cuore di questa prima fase della democrazia atteniese, propriamente detto, siamo alla prima democrazia, la democrazia di Clistene. Ebbene, uno degli aspetti che emerge di questa rivoluzione democratica ci arriva direttamente dalle fonti epigrafiche, il Curios o Demos, ovvero il popolo sovrano, il popolo è sovrano, questo è proprio l'embleme, qui veramente sentiamo, percepiamo una rivoluzione democratica. Ma adesso vorrei, come dire, cercare di approfondire, cercare di capire che cos'era la democrazia, o per meglio dire con parole atteniese, la democrazia, appunto per un atteniese all'inizio del V secolo. Ovviamente in questo periodo non ci sono arrivate fonti, l'attestazione del termine democrazia è più tardi, dobbiamo risalire alle sublici di Esco del 1463, ma siamo ancora in una forma abbastanza in prosa. Ebbene, in questo momento, all'inizio del V secolo, il termine democrazia, il termine pensiero, la democrazia veniva usata con vari sinonimi. E qui andiamo ad analizzare e vediamo che cos'era appunto la democrazia per un antico. La prima parola, il primo sinonimo che usavano era isonomia, ovvero possiamo tradurre come un'uguaglianza di opportunità per partecipare alla politica. Attenzione che qui è un termine che, come dire, noi moderni suona molto di liberare, un'uguaglianza di opportunità, cioè tutti è concesso, è permesso accedere alla politica. Ovvio, non è un'uguaglianza rigida, severa, perché ognuno può partecipare con i propri mezzi, quindi se uno ha una maggior possibilità economica, una maggior possibilità culturale, ovviamente è favorito. Però, appunto, un'uguaglianza di opportunità garantisce a tutti quanti l'accesso alla politica. E questa isonomia potremmo anche tradurla con lo slogan, un uomo è un voto. E proprio questa, questa uguaglianza di opportunità, ha proprio un'origine aristocratica. E quindi qui mi riporto il discorso che ho appena fatto, dove un processo democratico è nato proprio in seno alla cultura aristocratica, alla cultura oligarchica del mondo ellenico, al VII secolo a.C. Ma torniamo adesso agli inizi del V secolo, questa isonomia. E qui si vede proprio il cuore del pensiero della prima democrazia. E quindi è tutta la cittadinanza unita, quindi sia i ricchi, sia la stessa classe dirigente, i stessi aristocratici, sia anche il demos, ovvero i poveracci, e anche ovviamente le classi medie, i medie e piccoli proprietari, cioè il censo politico. Tutta quanta la città è vista, è unita, è sentita e viene contrapposta al potere del singolo, al potere del tiranno, il turannos, che nel pensiero greco era un cittadino privato che impropriamente si impossessava dell'attacco in a, cioè della cosa pubblica, se vogliamo dire alla latina della repubblica, si impossessava in modo privato, quindi in modo illegale, fuori dalla legge. E quindi tutta la cittadinanza era sentita, questa era la prima democrazia, tutta la cittadinanza unita contro il potere del singolo. Un'altra caratteristica del pensiero antico è la parresia, ovvero la libertà di esprimere le proprie idee su qualsiasi cosa, cose pubbliche e private. Questo è un aspetto propriamente del pensiero democratico antico. Si poteva dire quello che si voleva ovviamente, pensiamo alle commedie di Aristofane che erano veramente incendiari, ma qualsiasi persona, anche il poveraccio, il pezzente poteva dire la propria e ricordiamolo come appunto già nel, poi vogliamo un attimo nel quarto secolo, i filosofi, la casa di dirigente, l'attenese ha sempre amato, ha visto di buon grado il modello, il modello lacedemone, il modello degli spartani, però come ricordava il buono i Socrate, ebbene gli attenesi erano liberi di poter dire la propria, ma a differenza a Sparta non si poteva fare tutto ciò, non si poteva proprio elogiare il modello atenese. Bisogna anche dire a Sparta non c'erano filosofi come l'Atene, quindi il problema proprio non sorgeva, gli spartani avevano altri compiti che non passare, come Socrate, il tempo nel lago Rà. Un'altra caratteristica del pensiero democratico antico è l'euteria, la libertà. Qui lo storico Hansen ci viene in aiuto e definisce che ci sono tre sfaccettature, le tre sfumature della libertà antica. Una prima, una libertà sociale, ovviamente siamo nel mondo antico, la libertà si divideva in liberi e schiavi, quindi una libertà proprio dal punto di vista sociale. Una seconda, una libertà politica e quindi l'autonomia della polis dal punto di vista politico, militare, economico, questo già rientra un po' nel campo, nei moderni, potremmo chiamarlo della geopolitica. E infine una libertà che è puramente democratica, una libertà che potremmo definire quasi costituzionale, ovvero una libertà nel pubblico, nelle decisioni e anche una libertà nella sfera privata. E qui l'epitafio di Pericle dove ad Atene ognuno vive secondo, ovviamente, nel rispetto delle leggi che sono, e questo è il pubblico, ma la propria privata è libera di fare quello che uno vuole. Questo sembra essere un grande aspetto proprio tipico del pensiero democratico. Anche le grandi critiche degli oligarchi, pensiamo al vecchio oligarcho che siamo verso la fine del V secolo, criticavano questo aspetto dove ad Atene appunto si poteva vivere come si voleva, anche gli schiavi, insomma, potevano dire, potevano fare quello che volevano. Ovviamente non godevano di una libertà né politica né civile, però avevano, c'era questa caratteristica. Infatti Anson sottolinea come la critica del liberal conservatore, Benjamin Constant, all'inizio dell'Ottocento, ebbene, egli costante abbia posto più le divergenze sulla libertà individuale tra antiche e moderni e non tanto sulle somiglianze, perché appunto questa libertà, questa terza sfumatura di una libertà costituzionale, come dire, a noi moderni ricorda un parolone, però comunque ci getta addosso, ci va a salire delle forti pensieri, delle forti tentazioni. Ancora parlando dell'euteria, della libertà, ricordiamo le parole di Mosti che è riferendosi a Pelicre, il suo discorso sui caduti. Evidenza come la libertà nella democrazia volesse dire che la cittadinanza fosse libera, quindi che cosa vuol dire? Che tutti quanti fossero governati dalla legge che tutti quanti hanno votato, un parolone grosso, hanno deciso, tutti quanti sono sotto la stessa legge, dal più ricco al più povere, quindi questo, secondo Pelicre, è la democrazia. Infatti, secondo Mosti, quello che viene a formarsi, poi lo vedremo meglio, sotto Pelicre, è un grande compromesso sociale, che è un tentativo che va anche incontro, qui sfocia forse nei nostri stati moderni, un tentativo di armonizzare il privato e il pubblico. Questo è uno dei tanti esempi, appunto parlare della democrazia atteniesa manda sempre un po' infrantumi questi paradigmi tra antichi e moderni, riflettere sulla democrazia antica teniese, indubbiamente fa riflettere su oggi sul nostro regime, che ricordiamo era una democrazia rappresentativa. Inoltre, un'altra parola, un altro sinonimo di democrazia che usavano in antica era isegoria, che possiamo tradurre come il diritto di espressione e di scelta. Si poteva vivere come si voleva, ovviamente, nel rispetto sempre della legge. E, dal punto di vista democratico, il principio, che si vede come funzionava la democrazia, gli organi di governo vivevano sul principio del Bulemos, ovvero del cittadino volontario. Le istituzioni vivevano sulla base di cittadini volontari, dove la premessa è che tutti quanti avevano accesso, potevano avere accesso alla gestione diretta della polis, ma qualcuno poteva anche rifiutare. Quindi qui la isegoria, bisogna intendere in questo senso. Inoltre, per chiudere un po' il discorso su che cos'era questa prima democrazia, appunto la democrazia di Clisten, la democrazia dei medi e piccoli proprietari, quella che di fatto ha sconfitto i persiani a maratona. Ebbene, dobbiamo ovviamente ricorrere al dialogo tripolitico di Erodoto, nel quale appunto spiega che cos'è una democrazia. Ovviamente Erodoto è postumo, però è figlio ovviamente di quella cultura, è un pericleo anche lui, e quindi tratteggio in modo ideale la democrazia. Ebbene, strumenti indispensabili della democrazia sono il sorteggio, la rotazione, la rendicontazione delle cariche, quell'esame che si faceva all'inizio e alla fine di quando un magistrato entrava in carica e il popolo doveva controllare se non l'avesse urbato, se non l'avesse fatto cose strane, se no subiva un processo. Perché è qualcosa fondamentale, qui si vede, si respira proprio l'area di democrazia antica, il magistrato era sotto il controllo dei cittadini superati, era sotto il controllo di tutti quanti, e qui poi ritorneremo quando parleremo di Aristotele. Ovviamente nella democrazia di realtà c'erano delle elezioni, le elezioni erano riservate e non è un caso alle cariche più importanti dal punto di vista militare ed economico, perché sì, tutti quanti sono uguali, tutti quanti possono accedere, ma in quei ruoli, quelle magistrature che servono per l'amministrazione, ma appunto come quando bisogna condurre un esercito e quindi qui mi faccio, penso alle cariche più importanti che di fatto era lo strategoso, gli strategoi erano i generali che portavano, che conducevano l'esercito nella guerra, dieci per ogni tribù, quindi una rappresentazione democratica anche del territorio, le dieci tribù dell'attica ogni anno veniva sorteggiato, scusate, veniva eletto uno stratego e l'assemblea che li votava. Ebbene, e quindi capite bene, la guerra è meglio che ci sia uno che abbia le competenze, sia dal punto di vista militare, ovviamente alle cariche, quelle che riguardavano la finanza, l'economia e anche quelle per la costruzione dei templi. Ovviamente bisogna sottolineare in questa prima parte queste cariche, le cariche più importanti sono riservate alla prima e alla seconda classe di censo di Solone. Siamo nella democrazia di Clisten, vedremo che già con l'arrivo di Temistocle si arriverà, si sfonderà, come dire, la classe di censo di Diopliti, ma per ora attenzione, quindi è una democrazia, se vogliamo, moderata, se vogliamo usare questo termine un po' improprio. E infine il grande strumento che poi racchiude il pensiero della prima democrazia, ovviamente è l'ostracismo, una tipica istituzione, una tipica procedura dell'Atene antica. Consisteva in un esilio di dieci anni, forse poi anche qui i dibattiti si sono poche fonti, gli storici, come dire, i lavori duri, tre storici, si può capire anche forse tra le righe, forse lungo, il quinto secolo è stata ridotta a cinque, anche meno, però formalmente all'inizio almeno era di dieci anni. Ed era un voto fatto a persona, quindi con un conteggio dei voti, appunto, gli ostraca, che erano questi pezzi di ceramica nel quale si votava, si inseriva il nome, ogni tribù votava e poi, appunto, chi riceveva più voti veniva esiliato per dieci anni. Il punto fondamentale è che gli storici hanno sempre, come dire, lottato tra di loro, il famoso numero dei 6.000, se 6.000 fosse il quorum per, appunto, autorizzare un ostracismo, un esilio, quindi se non si fosse arrivate a 6.000 la votazione non era varia, o se 6.000 fosse il numero affinché una persona doveva ricevere per andare in esilio. Quello che sembra oggi agli storici e agli studiosi, appunto, che 6.000 sia più che altro un quorum, perché, appunto, in una società, in un modello così piccolo come di fatti l'attica, è difficile pensare che una persona riceva solamente 6.000. E' più probabile, appunto, che il quorum fosse di 6.000 e poi autorizzava quella procedura. Infatti, se pensiamo anche all'ultima volta che fu usato l'ostracismo, siamo ovviamente alla fine del V secolo, l'ostracismo di Iperbolo, ebbene, sono tre i possibili candidati dove alla fine, a sorpresa, verrà ostracizzato, appunto, il nostro demagogo Iperbolo. E quindi questo fa alquanto riflettere, alquanto improbabile che Demagogo Iperbolo abbia preso totalmente 6.000 voti, anche perché, come ci dice Plutarco dalle fonti, i due grandi palpabili che erano, appunto, Alcibe e De Nicia, si misero d'accordo tra di loro per far convergere i loro voti. E quindi è un po' improbabile, ma appunto, questi sono dibattiti che ancora vanno avanti, però ora come ora, nel 2022, gli storici sono su questa linea. La cosa importante che dobbiamo sottolineare è che l'ostracismo è proprio il cuore della prima democrazia, infatti anche qui vive il principio della città unita, tutta quanta la città unita contro la tirannia. E quindi fu usato, infatti, all'inizio contro gli amici dei tiranni, però è in particolare notare come, appena finita il pericolo, è appena finita, appunto, la battaglia di Maratona, subito qualche anno più tardi. Ricordiamo Aguidari Persiani, se non erro, era Ippa, il fratello, figlio di Piesistoro, quindi uno della tirannia. Ebbene, subito finito questo problema, si è visto come di fatto l'ostracismo e venne usata come arma politica tra la classe dirigente, ovviamente aristocratica, degli attenesi. Quindi già nel 485-84 il primo esiliato fu il padre di Pericle, Satippo, figlio di Arifrone. Ma successivamente, nel 482, fu esiliato il moderato aristocratico Aristide. Nel 470 l'ideatore della flotta, quindi qui siamo dopo la seconda guerra persiana, lo stesso Temistocle, fu esiliato. E infine nel 461 fu esiliato Cimone, nel 443 Tucidide, figlio di Melesia, nonno dello storico Tucidide. Entrambi rivali di Pericle, questa è già la stagione in quale Pericle dominerà la storia di Atene in quel trentennio. E infine, appunto, siamo arrivati, secondo lo storico Gianluca Cuniberti, si può datare lo stracismo di Iperbolo tra il 417 e il 416 avanti Cristo. E qui, di fatto, l'ultimo impiego, l'ultimo uso dello stracismo con, appunto, l'esilio a sorpresa del demagogo Iperbolo. E infatti le fonti riportano che dopo questa data gli attenesi non volevano più usare questa arma, perché si era vista come di fatto non c'era più lo spirito originario, cioè tutta la cittadinanza unita contro il tiranno, ma era semplicemente un'arma politica. Vi era così ad Atene una democrazia, ma di fatto un poter affidato al primo cittadino. Tucidide. Noi siamo sempre stati ostili ai tiranni e tutto quello che si oppone a un dominatore è chiamato democrazia. E da questo fatto restò a noi la guida del popolo. Inoltre, quando una città era governata da una democrazia, spesso era necessario adattarsi alla situazione. Stacco. Sapevamo che cosa fosse la democrazia, e io stesso, non meno degli altri, in quanto ne ho subito i torti più grandi, potrei insultarla. Ma se uno è riconosciuta pazzia, non si potrebbe dire nulla di nuovo. Parole di Alcibiade, figlio di Pericle, che dice a Sparta quando va in esilio. Ebbene, con queste due, ovviamente tutti e due prese da Tucida, so guardare il Peloponneso, la prima era la descrizione di che cos'è la democrazia periclea per Tucidide. Invece queste sono le parole che appunto ha riportato Alcibiade, che descrive secondo lui che cos'è la democrazia bene. Con queste parole, che ovviamente non sono molto idealiste, iniziamo a parlare della democrazia periclea. Il grande cambiamento, la grande trasformazione della democrazia di Atene avviene con il volto della democrazia radicale. Quindi qui dobbiamo fare una permessa fondamentale il rapporto tra la flotta e quello che si è creato, l'impero navale, con la democrazia radicale. Ovviamente con l'opera di Temistocle, in seguito tutto il V secolo, nella metà del V secolo, Atene diventa un impero navale, ovvero una talassocrazia, cioè quello che contava era il dominio delle altre città, primi alleati, poi dati sudditi, il dominio del talassos, il tributo. Una appunto, una linea egemonica che non è proprio un controllo diretto dei territori, ma un controllo delle coste, dei punti fondamentali, del commercio, se vogliamo un modello molto anglosassone, se vogliamo lanciarci così nel moderno. Ma tornando a noi, è anche così importante questo dettaglio, perché la flotta cambia in modo così radicale di equilibrio, perché fino a quel momento, pensiamo a Maratona, i cittadini di pieno diritto erano ovviamente chi si poteva armare le proprie spese, chi poteva rivestire, acquisire un equipaggiamento oplitico. E quindi, dai dati che abbiamo dell'esercito, si ipotizza che nel V secolo, tra cavalieri e opliti, si arrivasse a un totale di 13.000 cittadini, e quindi una cittadinanza, nella prima democrazia di Clissen, se vogliamo chiamarla così, se vogliamo una cittadinanza di 13.000 cittadini. In più, a tutti questi dobbiamo aggiungere 20.000 nullatenenti, appartenenti del Demos, che della riforma di Censo di Solone erano i teti, erano l'ultima classe di Censo, che appunto avevano una forte limitazione nell'accelerare le cariche pubbliche. Ebbene, con l'arrivo della flotta, cosa vuol dire esattamente? La flotta dominata dalle triremi, una trireme per armarla, essere messa in mare, aveva bisogno di 200 uomini, 170 rematori, i restanti ufficiali, 10 epibati, che erano dei soldati armati in modo oplitico, che combattevano sulle navi. Secondo storici contemporanei, questi stessi furono armati direttamente dalla polisi in modo oplitico. Quindi qui vediamo dei cittadini del Demos armati dalla polisi stessa per rivestire un ruolo oplitico. Un qualcosa che ovviamente ci ricorda in scala un po' più piccola la riforma di Mario dell'esercito con le legioni, quando a ruolo anche i nulla tenenti li fa armare direttamente dall'esercito. Tornando a noi, questi dieci epibati, gente del Demos, armata dal, possiamo definire, dallo Stato, dalla città, più quattro arcieri, che ovviamente erano mercenari. Quindi questa è una trireme. Quindi qui capite, 170 rematori più i dieci epibati. Ebbene, questo numero, 180 personale di uomini del Demos, erano il cuore della flotta, soprattutto i rematori. Quindi grazie all'arrivo della flotta dell'impero navale, i cittadini, il Demos, gli ultimi della classe di censo, entrano di fatto come nel rango di cittadini soldati, quindi acquistano la parità dei diritti polici, diventano i cittadini attivi, e questo perché la loro arma diventa il remo e la flotta che fa muovere l'impero atenese. E appunto, all'inizio della guerra, subito all'inizio della guerra per il Poneso, si stima, da Tucidio, quello che viene fuori, che Atene avesse 200 trireme in mare del suo impero, in più, all'interno, avesse ancora il suo arsenale altre 100 triremi. Ovviamente non poteva mettere in mare 300 triremi, però ne metteva ben 200, quindi qui capite il peso politico che hanno avuto i teti, sono entrati di fatto anche loro nella politica. È importante come questi teti, i nullatenenti, ricevessero uno stipendio, il famoso mistos, la paga pubblica, per tutto il loro servizio presso le navi, quindi questo loro, loro vivevano di quello, quindi si spiega anche perché durante quella che noi abbiamo visto con la guerra per l'oponneso le democrazia radicale, i teti sono sempre affavorevoli per una politica bellicista. Questo doppio rapporto fra democrazia radicale e l'impero. È importante, come i stessi antichi già avevano analizzato, avevano visto questo doppio legame, infatti non è un caso che nei colpi di Stato della fine del quinto secolo fra il 411 e il 403, colpi di Stato oligarchi, avevano una chiara visione, pensiamo anche a Frinico, nella guerra per l'oponneso di Tucidide, hanno chiaro che eliminare la democrazia vuol dire eliminare l'impero, andava a eliminare la flotta, in questo modo i teti, il demos non avrà più la forza. Ma arriviamo a noi, di fatto abbiamo una data quando la democrazia radicale prende la sua forma, siamo con la riforma di Efi Alti del 462 ed è importantissimo perché ovviamente questo è tutto il contesto nel quale la flotta arriva ad avere potere sempre più i teti ormai sono coloro che fanno girare l'impero, chiedono maggior, chiedono di entrare nella politica ebbene con questa riforma di Efi Alti si assiste a un passaggio di potere dal Consiglio dell'Europago lo storico Consiglio aristocratico di età arcaica ebbene questi poteri vengono sostituiti dall'Europago vengono sostituiti vengono dati al Tribunale Popolare quindi giudici che volontari vengono sottrati a sordo su base dei volontari viene i teti viene loro dato l'accesso per diventare giudice quindi ricevere anche qui un'altra paga il mistos per una giornata intera di lavoro che era proprio una paga minima giusta la giornata ma quindi questo voleva dire anche la sopravvivenza per queste persone che non avevano nulla quindi quando erano forse più giovani stavano in flotta e remavano poi da anziani ormai potevano continuare a sostenere a vivere tramite i tribunali il lavoro nei tribunali popolari dobbiamo sempre pensare siamo nel mondo antico non c'è niente di welfare non ci sono pensioni non ci sono sedali non c'è niente quindi se tu eri non avevi più famiglia e tutto è arrivato mai alla fine della tua vita nessuno più si prendeva cura di te potevi vivere tramite la paga pubblica nei tribunali e poi ovviamente la riforma di Fialte ha dato ha preso i poteri del Consiglio Europago alle dati del tribunale e anche alla Boulay quindi un aumento ancora dei poteri della Boulay del Consiglio dei Cinquecento che è stata la grande rivoluzione della democrazia della riforma di Clistine questa volta ebbene e quindi qui si vede come tutta la democrazia radicale si regga in modo fondamentale con il mistoso e con questa paga pubblica per i rematori e per tutti i volontari all'interno degli organi di governo e i soldi finanziamenti per pagare il mistos veniva preso ovviamente dagli introiti dell'impero navale dagli introiti dei sudditi che pagavano quindi qui capiamo ancora una volta questo doppio legame tra flotta e democrazia radicale inoltre ovviamente poi quando arriverà Pericle la paga pubblica il tesoro pubblico verrà usato anche per gli edifici per l'edilizia pubblica e quindi qui di nuovo il mistos verrà usato per tutti i colori volontari tutti i nullatenenti che ritroveranno un modo per sopravvivere e ci sarà un forte consenso vediamo come la democrazia ovviamente qui è ancora governata amministrata dalle elitte aristocratiche si inizia a creare questo compromesso sociale dove una parte degli utili dell'impero della frutta vengono come dire restituiti a coloro che di fatto rendono possibile tutto ciò che sono ovviamente la democrazia periclea è un prodotto della democrazia radicale se vogliamo sono anche la stessa cosa ma vorremmo approfondire questa grandissima figura di questo grandissimo statista atenese che ha ovviamente condizionato la storia di Atene e quindi siamo nell'Atene ormai della metà del quinto secolo l'Atene dei sofisti l'Atene che è la guida ormai della lega degli oattica e che sta sempre più diventando impero atenese ebbene una particolarità della democrazia di Pedicle è quella che è venuta a formarsi grazie alle politiche di questo grandissimo statista e quindi la creazione di un grande compromesso sociale e quindi l'aspetto la mutazione di questa di questo regime di questa democrazia diretta se precedentemente la democrazia era vista era sentita come appunto tutta la cittadinanza unita contro il tiranno l'aumento l'entrata nel pieno titolo della cittadinanza dei teti cioè del demos la parte dei più poveri ha cambiato questi equilibri però sostanzialmente c'è sempre una classe dirigente che è delle vecchie aristocrazie ma è aumentato se vogliamo il controllo da parte del demos del popolo inteso proprio come gli ultimi della società tutta la cittadinanza adesso è attiva politicamente ovviamente il rapporto stretto fra la democrazia radicale è flotta è impero l'abbiamo l'abbiamo visto in particolare gli utili i tributi presi dagli alleati sono accorsi ovviamente hanno reso celebre hanno reso le grandi opere che noi oggi visitiamo nei musei ad Atene pensiamo al partner di Atene ma non so i grandi lavori pubblici che ovviamente erano pagati con il mistos questa paga pubblica ma non so il mistos viene pagato come stipendio per i rematori della flotta qui il discorso che abbiamo fatto precedentemente sempre il demos che entra diventa cittadino soldato usando il remo come propria arma e soprattutto e quindi qui il discorso del controllo da parte del demos della classe dirigente nei tribunali popolari una giornata intera di lavoro nei tribunali popolari viene pagata tramite il mistos e quindi di questo grande compromesso sociale lo storico Musti ha individuato come questo ottimismo per il Cleo che è venuto a formarsi profondamente opposto che dallo storico pessimismo greco pensiamo al pessimismo di Esiodo con la degenerazione dell'età dell'oro l'argento di bronzo l'età degli eroi realtà del ferro quindi questa continua discesa ebbene invece l'ultimismo per il Cleo si caratterizza per un forte attivismo individuale tutto questo lo ricostruiamo nel celebre discorso sui caduti l'epitaffio per il Cleo nel secondo libro di Tucidide ebbene un altro aspetto un po' più che marca un po' più l'aristocrazia che cos'è questo vero governo lo storico Luciano Canfra ha definito Pericle e la democrazia periclea riprendendo ovviamente le parole di Tucidide ebbene qui ha definito la figura di Pericle come la figura di un princeps usando questo termine della tarda repubblica romana ma usando le parole che usa Tucidide che definisce Pericle come il prostates to demu cioè come il primo tra i cittadini per merito Canfra sottolinea questo aspetto sottolinea il potere personale e definisce come di fatto riprendendo anche le teorie elitiste del novecento fa questa interessante unione e quindi definisce la democrazia periclea di fatto come un governo aristocratico non come una vera aristocrazia infatti Pericle descritto anche dagli antichi come il primo demagogo quindi quella figura che è riuscita tramite la persuasione membro dell'aristocrazia e quindi qui unisce un po' è un ponte fra il governo precedente dell'aristocrazia della democrazia di Clistene dove di fatto a classe dirigente erano sempre comunque gli aristocratici è un aristocratico che come dire si è fatto demagogo è persuado ormai questo demus che è entrato nella politica ma attenzione a differenza di quelli che verranno di demagoghi successivi Pericle persuadi i cittadini verso il meglio della città però è pur sempre un governo personale quindi qui Canfora collegandosi alle teorie dell'elite del novecento sottolinea come di fatto la democrazia non è ma un governo personale o se vogliamo di un'elite aristocratica quello che avviene ovviamente nel quattrocentotrentuno esplode la guerra del Peloponnese qui ce la porteremo fino al quattrocentoquattro in questo periodo con la morte di Pericle vengono ad affermarsi una nuova figura politica chiamato il Neos Plutos Poneros ovvero i demagoghi propriamente detti pensiamo a Cleone questi individui erano la parte peggiore descritti proprio dai fonti legati come la parte peggiore unta della città che si era arricchita ovviamente a differenza di Pericle non facevano parte della classe dirigente quindi la loro ricchezza non si basava sulla terra ma si basava appunto sulle attività artigianali avevano grandi se vogliamo industrie antiche grandi laboratori di artigianato con diversi schiavi ovviamente siamo nel mondo antico e quindi qui doppiamente questo legame sempre più fra Demos ormai questi individui demagoghi che emergono di fatto dal depo dalle attività artigianali non possiedono la terra sono legati con la politica imperialistica sia per il mistoso la paga pubblica nei tribunali e non solo per i lavori pubblici ma anche per le attività questo doppio legame con la flotta questo impero marino questi uomini che si sono arricchiti sono ricchi ricordiamolo come sottolinea lo stesso Canfora Cleone apparteneva alla seconda classe di censo cioè apparteneva ai cavalieri cioè soldi ne aveva riescono a pagare l'elezione della sofistica che ovviamente come ho ricordato all'inizio l'Atene di Pericle è il periodo della sofistica e quindi riescono ad accedere a quegli strumenti per governare di fatto un regime democratico che sono la parola la persuasione che prima dei sofisti ricordiamolo la cultura la parola era appannaggio soltanto della classe dirigente agli aristocratici come ha sottolineato lo storico Gianluca Cuniberti questi demagoghi analizzando proprio quello che c'è rimasto non solo le fonti letterarie che sono ben poche ma soprattutto se vogliamo nella commedia di Aristocane viene tratteggiato il loro profilo di quello che facevano nel concreto nella politica ma soprattutto anche delle fonti epigrafiche quello che emerge erano uomini impegnati nella politica propriamente dell'assemblea nella politica proprio se vogliamo amministrativa riguardo all'assemblea con i rapporti con le città dei tributi delle città e con i decreti di cittadinanza quindi tutte occasioni dove appunto il ruolo il focus era il cittadino il demos oppure quello che emerge dalle commedie Aristofane questo ovviamente sapevano usare la parola quindi il rapporto che ha Cleone riguardo con i tribunali che è capace di persuadere appunto coloro i giudici i tribunali i volontari che non erano di fatto che il demos i poveracci che per la paga del mistos facevano i giudici per una giornata è interessante riflettere sul perché una fonte così autorevole appunto come Tucidide non li abbia tanto trattati forse una motivazione appunto che a differenza di Cleone che è l'unico che ha avuto veramente un profilo riguardo alla politica internazionale cioè sono gli anni della guerra del perloponneso è l'unico che di fatto ha inciso e se andiamo a rileggere Tucidide vediamo come Cleone si è entrato come dire di fortuna usando come il termine di Tucidide con la tuche la fortuna antica esortando siamo ai fatti di Sfactera esortando gli strateghi strategos Demostene ad avanzare a conquistare quest'isola quindi a conquistare i prigionieri lacedemoni ebbene sotto l'impeto ormai di un demos in assemblea folle persuaso delle sue parole pieno di sé li dà pieni poteri e lo rende uno stratego magistrato con pieni poteri e ovviamente Cleone andrà con questi pieni poteri ovviamente vincerà questa battaglia il suo grande successo aver ottenuto aver fatto un sacco di prigionieri lacedemoni ovviamente qui Tucidide che dice beh ha avuto la tuche ha avuto fortuna cioè ha avuto una botta di culo per parafrasare ebbene quindi vediamo ovviamente Cleone non sarà più così morirà ad Anfiboli un anno dopo però è indicativo vedere come appunto la fortuna di Cleone è stata su un momento in realtà tutti i vari demagoghi come Iperbolo come anche altri Cleonimo eccetera quelli che emergono nella commedia le fonti epigrafiche hanno una politica il loro ruolo politico fortemente se vogliamo all'interno della città in particolare nell'assemblea e con i suoi rapporti con il Demos nei tribunali popolari quello che emerge in particolare durante la guerra del Peloponneso se la democrazia ha il volto di fatto della democrazia radicale sono di fatto questi nuove figure questi parvenus che si affacciano alla politica cioè membri del Demos ovviamente arricchiti che sono i demagoghi ebbene quello che noi vediamo è un'autentica scissione all'interno della cittadinanza e quindi così potremmo casomai definire il mito dei cavalieri una sorta di revival dei valori aristocratici non è un caso nel 424 uscì la commedia di Aristofane dove appunto i cavalieri la seconda classe di censo si fa elogio e si chiede di salvare la città da chi? dal salsicciai con nient'altro che lo stesso Cleone e quindi di fatto finisce la commedia se non è romano che i cavalieri lo prendono a botte lo fanno fuori per dire questo è il clima della satira politica atteniese però quello che noi vediamo appunto una forte polarizzazione la democrazia si spacca in questo momento una classe ovviamente dirigente democratica continua a governare scende a patti di fatto ormai con questo demos che è entrato in politica ma un'altra parte forse una minoranza non lo sappiamo bene non possiamo dire dalle fonti fa un passo indietro e come dire va nella trincea dei propri valori aristocratici non è un caso nel 423 le supplici di Euripide anche qui il volto della sofistica e dell'origarchia nella tragedia greca ebbene scrive nella sua tragedia le supplici descrive il demagogo come un aspetto degenerato del sistema della democrazia ma un aspetto che non si può fare a meno non si può cancellare e in particolare sottolineare come quel che viene adesso a formarsi non possiamo definire come partiti non sono ovviamente i partiti moderni che noi abbiamo visto che vedevamo anche perché oggi i partiti sono in crisi però non sono quello non dobbiamo fare l'errore di concepire la politica in quel modo ad Atene questa democrazia diretta era una politica personale la facevano le persone che si riunivano intorno a clan familiari questo sì dobbiamo dirlo però non possiamo fare l'errore invece il volto pienamente oligarca se appunto i cavalieri di Aristofano ha un sapore un po' moderato un po' conservatore di frenare gli eccessi chi invece possiamo definire gli oligarchi irriducibili quelli che vedono bene vogliono fare di Atene un modello vogliono fare una nuova Sparta quindi abbracciare totalmente il modello spartano cioè il modello proprio dell'aristocrazia quella del settimo secolo avanti Cristo del modello politico ebbene di questi sono i campioni possiamo pensare a quello che noi ci è giunto Antifonte per il colpo di stato del 411 ma Senofonte è lo stesso Crizia Crizia zio di Platone è leader di quelli che saranno nel 404 i 30 tiranni ebbene in particolare il vecchio oligarca di questo pamflet che noi abbiamo avuto tra le carte di Senofonte però anche lì si pensa che sia uno pseudo Senofonte il dibattito è acceso fra gli storici su chi sia l'autore di questo pamflet l'opusculo si chiama la Costituzione degli Atenesi dello pseudo Senofonte e qui Mussi sostiene Domenico Mussi che l'autore sia Senofonte invece Canfora sostiene che sia proprio Crizia l'autore è molto interessante questo pamflet è un sacco realista come pensiero un pensiero stranamente lucido la democrazia viene la democrazia il regime democratico viene eletto viene percepito come il regime del demos quindi non più come la totalità della cittadinanza e quindi la democrazia non è nient'altro che il governo dei non possidenti e attenzione a questa cosa che è molto importante leggere la democrazia come il regime dei poveri di questo riprenderanno sia Aristotele nel secolo successivo ma se pensiamo anche a Marx con la comune ovviamente siamo nel 1871 agli anarchici ebbene questo rapporto dobbiamo tenercelo bene perché ovviamente molti si allacceranno lo stesso camfara il suo pensiero si basa su questo accostamento di pensiero sia antico che moderno di pensare alla democrazia come il regime dei poveri tornando a noi tornando al vecchio oligarca ebbene appunto la democrazia il demos che è un'emanazione non può la democrazia è un regime corrotto è un regime malvagio perché il demos è malvagio e quindi è normale che sia così che non funzioni l'unica cura è abbatterla è tremendo e ovviamente il demos opprime i migliori della città che si chiamano loro i migliori sono gli aristocratici c'è anche un un sapore forse quasi universale c'è il demos di tutte le varie città tutti quanti sono uniti sempre contro i migliori e soprattutto le critiche si rivolge ovviamente al demos ma essendo dei pezzenti sul punto di vista dei malvagi non hanno la possibilità di creare di mettere in piedi quel regime il regime democratico è in piedi perché una parte dei milioni e una parte dei ricchi quindi qui c'è la critica forte del vecchio ricarca alla ricchezza ha tradito i migliori ha tradito gli aristocratici per guidare il demos e qui ovviamente la critica è puramente alla famiglia di Perica al Cibiede a Nicia a quei grandi uomini con le grandi figure dell'aristocrazia atteniese che hanno deciso di scendere come dire di guidare la democrazia quindi qui Canfora ricorda le parole di Alcibide a Sparta quindi questa democrazia che è risaputo sia lui Alcibide che fa parte di una grandissima famiglia aristocratici e agli spartani che la democrazia fosse una conosciuta follia e quindi appunto ancora maggiore ragione Canfora sottolinea come di fatto la democrazia pericola non fosse nient'altro che il governo di un'elite aristocratica per merito delle sue virtù economiche e culturali che guidava e governava il demos ovviamente il rapporto fra capo e masse lo storico Luciano Canforo lo approfondisce in un modo però anche un po' spaventoso però ovviamente che è giusto approfondire e vede come questo rapporto ma i masse ovviamente tra virgolette non sono le masse del novecento però fra un leader carismatico e i tanti ebbene si vede come lo stesso Clistene qui torniamo indietro torniamo alla fondazione della democrazia atteniese e si vede come stesso Clistene la che alchemeonide ipote del tiranno Clistene di Soccione il quale egli Clistene di Soccione da quello che pare dalle fonti pare che abbia unito i non dori di questa città siccione dell'Arcadia abbia creato una quarta tribù contro i proprietari di origine dori quindi c'è sempre questo rapporto di ricchezza si parla di un tiranno anche qui il doppio legame fra un tiranno una figura non singolo e i poveri i poveracci il Demos contro i ricchi proprietari sono di fatto l'aristocrazia ebbene tornando a noi tornando a Clistene il padre della democrazia si vede come prima di essere di opporsi ai pisisteti egli sia stato un arconte sotto tale regime e quindi qui si spiega bene la frase di Erodoto che dice che Clistene prese il Demos nella sua eteria nello scontro che si ebbe successivamente fra Clistene e Isagora ovvero quegli attenesi che erano ovviamente favorevoli anche qui a Sparta al modello dell'aristocrazia ovviamente il revival della fine del quinto secolo si rifanno anche sono sempre le solite famiglie si rifanno anche a Isagora quelle famiglie più aristocratiche ma adesso torniamo all'inizio questo potere personale torniamo all'inizio della fondazione della democrazia atteniese quindi questo rapporto e Clistene per vincere la partita abbia portato appunto il Demos nella sua etteria che cos'era l'etteria non era un partito in quell'epoca era gli amici le amicizie a livello anche familiare un'amicizia politica se vogliamo se conoscete l'amicizia romana per i romani l'amicizia era un punto di vista proprio politico del legame anche di sangue se una famiglia era legata a una certa persona a una certa figura tutti quanti dovevano seguire quella scelta non c'era molta libertà quindi questo si spiega bene quindi questo rapporto anche Canforo fa pensare questo rapporto fra un leader un leader carismatico ovviamente e i tanti se vogliamo le masse tra virgolette ovviamente quello che è importante sotto un'eleare della democrazia periclea come alla fine ormai del quinto secolo si spacca si polarizza ormai in modo irreversibile infatti arriveranno nel 411 e nel 403 due colpi di stato da parte degli oligarchi che hanno abbattuto la democrazia quindi qui questo è il passaggio della democrazia la prima democrazia come il governo di tutti quanti uniti contro la tirannia invece nella democrazia radicale appunto per l'arrivo nella scena politica di nuove nuove figure del demos dei demagoghi che ovviamente era gente ricca ma che non appartena più alla classe dirigente questo crea una polarizzazione della classe dirigente soprattutto di quegli aristocratici che mai hanno accettato di governare ovviamente stiamo parlando durante la guerra del Peloponnese la situazione era di una guerra che è durata hanno in durata 27 anni che veramente avrà inasprito le durezze di una guerra così ha portato di fatto a una parte della cittadinanza alla stasis cioè alla guerra civile cioè a decidere di separare quindi a dividere una cittadinanza di portare guarda di uccidersi i cittadini con cittadini per visioni differenti dal punto di vista politico e quindi siamo arrivati al 403 con la caduta della democrazia per mano di Crizia che ha posto sulla tirannia dei 30 tirani quello che voleva fare era il modello spartano inattica l'oligarchia sia quando dominano coloro che posseggono la ricchezza mentre la democrazia è costituita al contrario da coloro che non posseggono sostanza ma sono poveri con ovviamente siamo nella politica di Aristotele ebbene con queste parole iniziamo saranno ovviamente approfondite in seguito iniziamo a parlare della democrazia del quarto secolo però ricordiamoci queste parole di un lucido realismo dal sapore quasi macchiavellico di Aristotele la scissione tra la democrazia del quinto e del quarto possiamo dire che inizia nel 411 con l'avvio portale fonti il grande dibattito sulla patria spoliteia sulla costituzione dei padri che cos'era questo grande dibattito era il tentativo di evitare ormai quelle falle quegli orrori della democrazia radicale che hanno portato a una crisi del sistema come la sicofantia nei tribunali i demagoghi che spadroneggiano nell'assemblea tutte queste caratteristiche degenerate del sistema democratico radicale quindi un tentativo di tornare alla costituzione dei padri e cosa voleva dire il problema che nessuno lo sa neanche gli antichi avevano bene idea sembrava molto un gioco politico tornare alla costituzione dei padri alcuni pensavano torniamo alla democrazia di Clister quindi una democrazia molto più oplitica del Censo quindi eliminiamo il democrazia di fatto dei suoi diritti della sua cittadinanza attiva quindi qui eliminiamo la flotta torniamo a essere tra virgolette un orizzonte oplitico un orizzonte se vogliamo spartano come modo come tipo di regime alcuni pensavano addirittura di forse un ritorno a Solone quindi siamo ancora all'inizio del VI secolo le quattro classi di Censo quindi questo ovviamente compromesso questa moderazione nel centro che vede sempre nella moderazione tra una classe di Censo oplitica è un'aristocrazia dei cavalieri però che ovviamente non devono cedere nella tracotanza non devono cedere nella hubris della ricchezza questo era il pensiero alla politica di Solone però voi capite un incorso di questo tipo quanto sia doppio gioco facciamo un esempio possiamo applicarlo un pensiero analogo all'Italia nei giorni nostri cioè pensiamo l'Italia deve sempre fare quelle riforme che non si fanno bisogna fare ma non si fanno allora qualcuno dice ma torniamo alla costruzione dei padri cosa vuol dire torniamo forse adesso si diceva che siamo nella terza repubblica torniamo alla seconda torniamo alla prima forse questa è la costruzione dei padri è la prima repubblica quando è stata fondata questo stato ma siamo sempre in Italia qui la tentazione è forte qualcuno dice ma no torniamo prima a costruzione dei padri come dire è quella degli anni 20 uno potrebbe dire ma no torniamo ancora indietro torniamo ai Savoia lo stato Albertino la prima tra virgolette costituzione si potrebbe dire ma no torniamo indietro ai Savoia quando eravamo uno stato una monarchia assoluta facciamo tornare i Savoia poi sono sempre in Italia torna torna indietro si arriva beh torniamo quando l'Italia era nei tempi di Bonifacio VIII che la Chiesa dominava su tutti quanti una sorta di neo guelfismo si può tornare indietro ancora di più ovviamente la grandezza dell'Italia è Roma torniamo a Costantino torniamo a Repubblica Romana capite è un discorso estremamente politico che si può tornare indietro l'ho esagerata molto l'ho esasperata però per darvi l'idea allo spessore che anche per gli Atenesi aveva questo sa poi c'era questo doppio gioco tornare alla Costituzione dei Palli sì ma quale capite c'è molto iniziativa politica infatti quando è nato questo dibattito nel 411 qui Aristotele il porta le fonti i democratici moderati sono chiamati così con molti vigoretti di clitofonte che loro avevano l'idea nel colpo di stato nel 411 di 411 arrivano i 400 nella boulet e loro di fare una lista dei cittadini fare una famosa lista dei 5000 quindi di ritornare a una Costituzione di tipo oplitico una Costituzione che guardava a Clisten ovviamente il 411 questo non è andato i 400 che hanno fatto il colpo di stato il potere se lo sono tenuti e arriviamo appunto nel 411 con il colpo di stato di nuovo un altro colpo di stato di Terramene il colpo di uno dove di fatto fa la Costituzione dei 5000 una cittadinanza solo per 5000 quindi qui come si è visto nella battaglia di Maratona gli opliti di fatto erano tra i 9 10.000 8.000 5.000 un numero ancora molto più sotto quindi non tutti quelli di censo oplitico sono rientrati in questa lista che hanno fatto loro e quindi poi ovviamente finirà nel 410 ritornerà la Costituzione per mano di Alcibi e del suo clan Terramene verrà messo da parte la Costituzione dei 5000 ben vista lo stesso storico Tucide che dice la miglior Costituzione che lui abbia mai visto anche qui getta scompiglie e panico fra gli storici perché ovviamente la tradizione vuole che Tucide sia stato esiliato per vent'anni come ha detto lui il problema che nel 411 non poteva essere ad Ateno se no è rientrato ma qui arriviamo dibattiti storiografici su Tucide però ci allarma tutto ciò e infine un altro tentativo della Patropolitea lo vediamo nella celeberapologia che Terramene fa di se stesso siamo nel 404 nella tirania dei 30 tiranni e Terramene che è uno dei capi di questo governo estremamente oligarche che i 30 tiranni c'era Terramene c'era Crizia Crizia capisce che Terramene sta provando a fare di nuovo il doppio gioco e allora decide di farlo fuori lui e in questo atto d'accusa Terramene lancia quello che forse è stato il manifesto per tutti gli oligarchi pentiti nel senso lui voleva un modello moderato di democrazia non i sopprusi dell'emocrazia radicale ma neanche un'oligarchia più ferria come quella che voleva Crizia e quindi forse qui il modello il famoso il papiro di Terramene in questa apologia per tutto il IV secolo vediamo che nella storia del IV secolo rientra questo dibattito sulla patriopoliteia questa istruzione dei patri e o tutte le volte che Atene subisce una sconfitta militare e in crisi questo dibattito prende piede e pian piano si vede come tentativi per arginare aspetti radicali di questa democrazia questo comunque è il dibattito sulla patriopoliteia come finirà finirà che nel 317 prenderà il potere Demetrio Fanaleo un tiranno durerà fino al 307 quando ritornerà la democrazia se non erro lo stesso Pausania ce ne parla molto brevemente se non erro le stesse donne hanno sono scese hanno combattuto volevano hanno forse votato anche le stesse donne e qui veramente è una roba molto interessante a saperne di più ma non ne sappiamo niente perché di qua in poi la storia atenese svanisce qualche frammento così fino ad arrivare ovviamente all'inizio del primo secolo avanti Cristo quando Silla entra ad Atene la saccheggia la conquista e la cede agli oligarchi quindi così di fatto con Silla si pone fine la storia della democrazia atenese quindi forse si ritorna di fatto al tema della patriospoliteia non lo sapremo mai almeno per ora non abbiamo fonti a riguardo nel 403 avanti Cristo avvenne la restaurazione della democrazia per opera di Trasibulo finì quell'anno fu veramente cancellato dagli annali della storia atenese il 404 il 403 l'anno della appunto della tirannia dei 30 tiranni guidata da Crizia ovviamente la guerra civile non finì quell'anno dobbiamo ricordarlo che ancora nel 401 finì di fatto con la fine di quella repubblica oligarca di Eleusi nel 403 Atene città nella tornata democratica con l'attica invece gli oligarchi si erano rifugiati ad Eleusi la città più prossima al confine con il colpele ponneso con Megara e poi da lì ovviamente il peloponneso la lega spartana nel 401 timore le voci di un possibile armarsi di nuovo degli oligarchi attenesi democratici di Atene non ci stanno scendono in campo invitano a parlare i leader degli oligarchi di Eleusi e sul tradimento li massacrono tutti gli oligarchi di Eleusi ormai senza capi decidono di tornare in città e così si conclude nel 401 in modo sanguinario la fine di fatto della guerra civile attenese almeno nel quinto secolo che era iniziata se vogliamo con il colpo di stato del 411 però appunto volendo possiamo tornare anche indietro però è giusto porre fine di fatto questo è il ritorno di fatto della democrazia in tutta quanta l'attica ebbene tornando a noi se il quinto secolo la democrazia attenese possiamo definirla un po' che abbia vissuto di idealismo abbiamo visto la democrazia di Clisten è tutta la città unita contro il tiranno oppure la figura di Pericle c'è questo grande strategos grande leader politico che in una razione all'assemblea la convince verso il bene diciamo il discorso di Pericle di Tucci di fare la guerra in quel momento è qualcosa che conviene di più alla città quindi agli interessi di tutti quindi anche se nel privato si viene penalizzati quello che conta è il bene pubblico ebbene questo è il quinto secolo nel quarto secolo vediamo invece un volto molto più realista della democrazia che ci fa alquanto riflettere come ha detto Hans siamo fortunati che nel quarto secolo è il secolo dove abbiamo maggiori fonti sia storiche letterarie ma anche epigrafiche e quindi conosciamo di più ebbene quindi vediamo questo quarto secolo questo secolo di profonda crisi sia di Atene ma tutte quante le varie poleis greche in particolare Atene vive un processo di professionalizzazione della politica in particolare la figura dei retor cioè questi uomini politici che vivevano in assemblea i retori una tra tutte le figure di Demostra un puro democratico il quale grazie ai loro mezzi e alla loro cultura erano di fatti i politici dell'assemblea e quindi non più i demagoghi del quinto secolo o chi si voleva se vogliamo improvvisare e in particolare la scissione fra politici e fra chi fa la guerra i strategoi i generali appunto perché appunto con la guerra del Perponneso la guerra diventa un affare molto più professionale tramonta il suo come dire inizia il tramonto della guerra oplitica cioè la guerra propriamente del cittadino e del soldato la guerra di una giornata la battaglia campale e già lungo il Perponneso si è visto come di fatto si cambiano le strategie diventano una guerra scusatemi per questo gioco di parole una guerra di guerriglia gli eroi di questo combattimento sono i peltasti fante armati alla leggera che si possono spostare in terreni accidentali gli opliti ovviamente hanno bisogno di grandi pianure pensiamo a maratona e non solo ebbene quindi gli eroi di questo combattimento diventano peltasti armati alla leggera la guerra diventa molto più complicata c'è bisogno a un punto di un sapere tecnico e quindi qui gli strateghi lo strategos gli strategoi non si dedichino più alla politica si dedichino sempre di più all'arte bellica e quindi aumenta un po' questo ovviamente il rapporto di ride carismatici fra un generale che sa di fatto cosa bisogna fare e ovviamente i soldati la figura anche dello stratega vediamo che ha una sorta di cambiamento in particolare tutto il quarto secolo l'attica vive una profonda crisi agraria ovviamente la guerra per il polponneso che è durata 27 anni e per la maggior parte di questo periodo l'esercito spartano della lega del polponneso ha invaso e ha distrutto la media piccola proprietà dell'attica quindi questo ha causato una vera autentica crisi della media piccola proprietà anche perché come abbiamo detto prima la guerra è ormai diventata lunga nel tempo non più stagionale e quindi come dire chi ci mette le spese sono i medi piccoli proprietari una cosa simile a un processo che si vedrà anche in epoca se ormai in storia romana dopo la seconda guerra punica nel secondo secolo vediamo come i medi piccoli proprietari con la lunga con l'andare delle guerre lunghe non possono più gestire la loro proprietà e va in crisi ma tornando a noi questo parallelo tornando a noi tornando ad Atene nel quarto secolo che cosa vuol dire la crisi della media di piccola proprietà si vede come di fatto la terra si verifica un selvaggio indebitamento della terra quindi un aumento della crisi della piccola media proprietà ma vuol dire anche un aumento dei grandi proprietari terrieri la terra viene ipotecata e chi ci guadagna è chi è comunque ricco chi è che può permettersi di acquisire più terra quindi aumenta questa polarizzazione e i medi piccoli proprietari che hanno perso la terra che è stata ipotecata hanno due strade si verifica questo grande fenomeno o di andare in città quindi di diventare il demos della città cioè quello che nel quinto secolo grazie al mistos remava la flotta infatti nel quarto secolo la flotta sarà di nuovo fatta o comunque con la paga del mistos nei tribunali o negli organi di governo e quindi si vede come nel quarto secolo la politica ormai tende più verso più sempre la città e per ricordare il pireo il cuore del demos invece nel secolo precedente era quantomeno se vogliamo un po' bilanciata perché c'era ancora una forte classe di censo degli opliti ovviamente un altro fattore che si verifica una guerra che dura così tanto per 27 anni a livello psicologico un'intergenerazione nasce con la mentalità che la guerra sia una cosa quotidiana quindi un aumento anche dei dei mercenari pensiamo Senofonte la Nabasi un giovane che si arruola decine di andare nel mercenario per i persiani ma anche qui è interessante come Senofonte fa parte dei cavalieri noi entriamo nei dibattiti di Canfaro sull'uolo che ha avuto Senofonte nella oligarchia dei 30 tiranni però in particolare come i cavalieri questi giovani questi giovani di queste famiglie non trovano la loro locazione in questa città ormai così democratica come i fatti del 401 avverranno dopo rispetto ai fatti di Ciro della Nabasi quindi questi giovani che sono nati nella guerra che ovviamente non si ritrovano sono cavalieri erano un filo del governo dei 30 tiranni potete immaginare il clima che c'era nonostante quella mistia ebbene si verifica un aumento dei mercenari ma ovviamente la democrazia come ha sottolineato lo storico Hansen per tutto il quarto secolo possiamo parlare di democrazia democrazia anche radicale questo perché il demos ha il potere ha il potere nei tribunali popolari e questo è l'unico principale luogo con le varie riforme come vedremo nel video successivo l'assemblea perderà i vari poteri c'è un continuo tentativo di togliere se vogliamo di sdramatizzare gli aspetti radicali della democrazia soprattutto dell'assemblea ma bisogna anche sottolineare come tutto quanto sia inutile che con la guerra con Filippo II Macedonia padre Alessandro si verificano di nuovo queste fiamme a livello radicale nell'assemblea e quindi qui appunto si spiega come ovviamente noi precedentemente noi conosciamo la democrazia del quinto secolo durante la guerra del paolo ponneso l'isteria del demos il demos che ragiona di pancia non è un caso che tutto ciò si ripresenta di nuovo in un altro caso eccezionale di grave crisi come la guerra con Filippo dove veramente all'epoca nel mondo antico fare una guerra rischiare grosso vuol dire che tutti quanti veniamo fatti fuori la città viene fatta fuori i maschi adulti fatti fuori le donne e i bambini venduti come schiavi la città rasa al suolo questo vuol dire fare una guerra nel mondo antico quindi si può spiegare si può comprendere l'isteria i nervi e i discorsi che possono essere stati fatti e come di fatto gli aspetti radicali si riaccendono ovviamente in un contesto di estremo pericolo come è stata la guerra di Filippo contro Filippo II di Macedonia nel IV secolo in particolare tornando a noi abbiamo visto come Hansen sostiene che il Demos ha ancora il potere sia nei tribunali che nell'assemblea nell'ecclesia nella grande assemblea ma in particolare possiamo ancora parlare di democrazia in quanto il Demos gestisce ancora la polis e quindi grazie all'uso del sorteggio della rotazione delle cariche della rendicontazione delle cariche quindi i magistrati sono sempre controllati dal Demos in particolare una cosa che sottolinea possiamo secondo Hansen possiamo parlare tranquillamente di democrazia radicale perché siamo in assenza di qualsiasi requisito di censo per accedere alle cariche pubbliche per accedere a qualsiasi carica pubblica ovviamente c'è l'elezione questo dipende per gli ovviamente carichi militari per la strategia e per le cariche finanziarie bisogna essere eletti però per tutto il resto delle cariche quelle cariche che sono più per l'amministrazione non ci sono requisiti di censo quindi chiunque può accedervi ovviamente rimane sempre il principio del volontario chiunque voglia può farlo infine parlando della democrazia del quarto secolo possiamo usare Aristotele questo grandissimo pensatore che ha riflettuto su un regime che vedeva con i propri occhi in particolare nel terzo libro della politica e in modo estremamente lucido possiamo dire anche macchiavellico definisce la democrazia la definisce che non è il governo della maggioranza infatti se ci pensate anche una oligarchia vigia il principio della maggioranza le decisioni sono prese da una maggioranza ovviamente quella che sono in una oligarchia sono pochi sono ristretti come numero di persone però le decisioni all'interno di un consiglio si prendono su base della maggioranza e anche in democrazia questo avviene quindi non è che la democrazia è il governo della maggioranza la democrazia che cos'è la democrazia antica è la gestione del demos direttamente della polis cioè dell'amministrazione della propria città e quindi con il suo ruolo di primo piano nell'assemblea nei tribunali e i magistrati ovviamente hanno un ruolo secondario un ruolo subordinato un ruolo di amministratore a differenza che in una oligarchia il cuore chi comanda sono effettivamente i magistrati pensiamo all'Atene dell'età arcaica dove appunto il consiglio dell'aereo pago gli arconti erano coloro che controllavano che gestivano effettivamente la polis secondo Aristotele un'uligarchia è infatti il regime dei nobili natali delle nobili origini degli aristocratici il regime della ricchezza della buondicazione della cultura e per definire che cos'è la democrazia Aristotele definisce e qui Canfaro sottolinea in modo estremamente puntiglioso come siccome la democrazia non è il governo della maggioranza perché il principio vale sia per l'uligarchia che per i democratici ma chi sono i tanti di una democrazia è di fatto nella realtà dei fatti i tanti sono i poveri e i ricchi sono pochi Aristotele fa un ragionamento inverso se in una città ci fossero pochi poveri e scusatemi sì ci fossero pochi poveri e tanto ricchi chi governa ovviamente non serve una democrazia se i tanti che sono i ricchi governassero una democrazia sarebbero comunque se governassero i poveri perché una democrazia e quindi qui si collega Aristotele al pensiero alla critica degli oligarchi alla critica della fine del quinto secolo degli oligarchi che la democrazia viene definita come il regime dei poveri come il regime del demos quindi quindi qua Canforo ovviamente sottolinea e si crea una sorta di cortocircuito tra il pensiero antico oligarcha ad esempio il vecchio oligarcha può essere Crizzo può essere Senofonte e il pensiero di Aristotele che definisce la democrazia come il regime dei non possidenti dei poveri e quindi qua ci lanciamo quindi qui si collega il pensiero di Canfora con il pensiero di Marx della comune della dittatura del proletario si collega a questo aspetto la democrazia come di fatto il regime dei poveri siamo giunti alla fine di questa lunga chiacchierata sulla abbiamo visto come Atene di fatto non può essere concepita come un blocco monolitico la storia della democrazia atenese ma è stata suddivisa in tre parti forse anche più di tre la continua evoluzione e comunque ho voluto anche sottolineare come di fatto sappiamo veramente poco di questa storia di questo regime politico la maggior parte delle fonti sono appunto del quarto secolo ebbene questo video si conclude qua come sempre vi invito a scrivermi nei commenti le vostre critiche il vostro pensiero vi ho elencato all'inizio del video i saggi con i quali ho costruito è un dibattito enorme non ci sono solo quelli potete veramente iniziare da dove volete ho cercato di dare un quadro un po' più complesso anche per i vari autori che si differenziano tra di loro e nulla spero di avervi annoiato ma non troppo